Presidente, sono uno studente della Facoltà di Materiali. Ha detto che ama molto studiare. Studiare è un ottimo modo di vivere. Ha ancora l'abitudine di leggere. Lei ha un programma così intenso. Riesce a leggere libri, opere letterarie e chi tra gli scrittori ha avuto su di lei la maggiore influenza? Grazie. Mi piacerebbe tanto dire, sono così istruito. Ho sviluppato un tale stereotipo, leggere continuamente. Non posso mentirvi ma purtroppo non riesco a leggere come vorrei. Ma ho dei libri sul comodino accanto al letto e a volte li apro. E davvero quando riesco a farlo lo faccio con piacere. Per quanto riguarda l'influenza della letteratura sulla formazione della persona certamente è uno dei fattori principali. in ogni caso negli anni scolastici il sistema sovietico aveva i suoi vantaggi. Noi ovviamente siamo tutti cresciuti, la gente della mia generazione, siamo cresciuti con i classici russi. Veramente devo dire onestamente che alcune cose che si studiavano a scuola, almeno prima, il giovane non era pronto per alcune cose. Solo dopo, rileggendo alcune cose, rileggendo alcuni libri, inizi a capirli, percepirli in modo diverso e capire la profondità di ciò che è scritto lì. Questo riguarda di classici come Tolstoi e anche Chekhov e Dostoievski, tanto più Dostoievski. Ecco, ma in generale l'opportunità di direi così comunicare con persone intelligenti che esprimevano i loro pensieri sulla vita e sull'essere in opere scritte è molto importante. Questo davvero forma una persona e appena appare il tempo soprattutto prima di dormire cerco di aprire un libro, sfogliarlo, dare un'occhiata e leggere. infatti i portatori cambiano una volta scrivevano in Russia, scrivevano Berestia da Betulia corteccia di Betulla in Cina si scriveva sulle tavolette di argilla, cioè anche da noi per qualche tempo si faceva questo poi hanno iniziato a scrivere sulla carta ora scrivono su internet i supporti sono diversi il contenuto è importante ecco cosa è importante non importa da dove hai preso l'informazione importa di che tipo è è molto è difficile soprattutto nel mondo moderno scegliere questo contenuto in questo enorme flusso di informazioni ma devo ammettere che i classici aiutano ancora creano questi criteri di scelta educano il gusto direi così ed è molto importante quindi per quanto non si voglia mi sembra cliccare qualcosa lì cercare su internet tuttavia il contatto con il libro è significativo applausi che è che ci 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 Grazie.